Diamo benvenuto a Chiara! Ciao Chiara! Ciao! Ciao! Pronto? Scontriamo qualche problema? No. Pronto? Ti sentite? Sì! Ti sentiamo, ti sentiamo. Un po' laggante. Da dove ci chiami? Dallo Zambia? No, in realtà da Mario. No, Rubino. Che schifo. Scusami, non ho capito da dove ci chiami. Che cazzo lei, non me ne ho detto nulla io. Stavo a vedere Instagram. D'Amalfi. Amalfi? Ah, questa era Amalfitana? Stavo a vedere Instagram. Sì. Ok. Chiara, innanzitutto benvenuta nella nostra realtà. Tu, Rubino. Rubino, dai, basta. Ma non sto a fare niente, è il mio volto. Scusami, Chiara. Rubino mi fa ridere quello che c'è dietro, c'è lo squadro. Arriva, brother! Mi manca stare da solo, in mezzo al mare, pure quando è mosso. Prendi una barca per starci con me. Voglio stare... Grazie. Grazie.